Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene ragazzi, siamo in grana, siamo tornati con un nuovo episodio E oggi ce la sciallamo molto Perché intanto questa cosa qua C'è sta Frax come esterno-finistro Oggi ce la sciallamo perché Cosa succede? Siamo già saliti in quarta Incredibile Incredibile Siamo fatti una divisione senza ritrocedere Siamo fatti una quinta C'è assurdo, allucinante Allucinante E quindi oggi giochiamo con la Serie A Non abbiamo detto così Facciamo riposare la Bundes in vista della quarta E cerchiamo di conquistare il titolo Abbiamo una vittoria Due partite e vincere una partita insomma I vecchi drapani contro il clan Giorno Loderacee Guarda Pianici, guarda il cielo Sa già che segnerà la punizione della vittoria Bam, subito Dov'ai, vabbè De Rose Ma che malta 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 Vedi ma ancora loro vogliono palla Perché sanno che non ne fanno Invece di inculartelo vai avanti Grande Bello Oh, mazza, era buono, dai Ti voglio bene, sai Basta, capiscono che abbiamo fatto due video subito dopo Preciso Era preciso per te Mandane con la Che cazzo Oh, è incredibile Dai, guarda che copia mi ha regalato Non è fuori gioco Non è fuori gioco Non è gol, non è gol Non è gol Incredibile Porca puttano gioca bene Ma che c'entro io Se non vanno a tosar paloni Che colpa mia Quanto mi fa così caro Quanto mi fa così caro Cazzo Ma poi che squadra c'è Cazzo Ma poi che squadra c'è Cazzo Cazzo No 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 Smisi boy Via 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 Perfetto Crosse nel mezzo Crosse nel mezzo Che cazzo fai di là Oh, no Oh, no No, no No, no Giuseppe No, no, no Conchino Salve Giuseppe Perfetto Source raiola 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 un po' attività corri come il vento la pia non fanno voglia di non sesso pure posta fai anche di i bambini lo vedi di abbiani lo vedi che sei amica mamma mia però ma tu puoi storti comunque oh belle crisi oddio sto in mezzo vai entra no è tua è tua porca puttana ma lo sapevo io cosa faceva e stavo pure coperto mamma ed io colo penso ma blocca la roba pare che pare in portiere che non sa non me sono la che eh bravo che non sa che fa ti ha solo palle in faccia mi desfrago che cazzo hai fatto porca madosca che cazzo di culo tutti i rimpalli suoi che porca puttana dai ma il mezzo proprio c'è la mia mente ma come cazzo sta io ecco no vabbè porco due però tre tiri veramente nititi proprio ma meno male che è stupido qua meno male che è stupido c'è la mia vita di là non vado io non capisco per chi poter quando esco la sua figlia vanno di là c'è un barato saggio vado al centro io non capisco sta cosa le giuro aiutate ma capì dai mamma mia porca proia ma com'è ma come angolo che cazzo per farlo questo oh a ripresa oh no no 2 a 1 tanto ci fanno niente infatti con noi c'è ne vado a 2 adesso e che lo fai sai oh non è possibile appena lo gioca non è possibile non è no no porca puttana c'è 4 dire record questo po' record mondiale ho sbagliato non ho fatto no 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 mori mamma mia no 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 ti ho sbagliato dalla stuola che palle oddio eh si falla rio rio metto la rio metto la rio giallo che è pepe mazzo un cane guardalo chi è piaccia o porco cani per chi l'ha tirata fuori ma che è stupido oddio no non ci posso credi tira e lei e lei era e lei è il gioco dai ma non ti preoccupare oddio guarda che pezzo di merda dei mori male oddio vai 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 no un germinio di merda cocani porco comunque raga la notizia buona è che non perdiamo mai la notizia brutta è che dobbiamo fare un'altra partita per superare sta divisione e sperare di vincere un cazzo di titolo che palle o noi ci becchiamo al prossimo video dai canals è tutto bella ciao ciao